Salve da CoCredit, stiamo vedendo degli occhiali da sole in affitto a Catania, sono degli occhiali da sole della Milano Living, sono occhiali da sole di tendenza, vediamo il ponte superiore, e sono degli occhiali da sole di categoria 3, sono occhiali da sole di tipo agonistico, infatti non hanno le cerniere metalliche. Categoria 3 significa che hanno una protezione dai raggi solari che va dal 82% al 91%, però è un occhiale da sole che può essere anche utilizzato per, vediamo qua la stanghetta che è tipica degli occhiali agonistici, vediamo infatti che ha la chiusura sulla testa, non sull'orecchio, e gli occhiali da sole possono essere anche utilizzati per condurre l'automobile. Questi occhiali da sole li trovate dal rivenditore convenzionato alla base di questo video.